Scusate, è un po' di ritardo, stavamo aspettando un po' di libri da mostrarvi e tenere in mano, ma stanno arrivando, quindi c'era questo problema. Allora, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, io sono Stefano Munarin, presenterò solo due parole per presentarvi i relatori, gli ospiti di questa nostra prima sessione pomeridiana, che li vedete qui seduti accanto a me, che sono Gino Cervi e Paolo Ciaberta, e siamo qui perché questi due signori, assieme ad una banda di altri, fanno parte di una banda di altri strani personaggi che in questi anni di piena crisi della carta stampata, potremmo dire, in piena chiusura, epoca di chiusura delle edicole, c'è una muria di edicole, cosa hanno pensato questi strani personaggi? Di fare una rivista e di farla di carta, cioè di non stare sul web, ma di fare una cosa che ho chiamato rivista, ma è una rivista, forse con gioco di parole potrei dire una rivista mai vista, nel senso che è una rivista che è più un libro per la qualità, dopo le parleranno loro, sia per la qualità delle fotografie, infatti, di cui poi dopo loro vi parleranno, per la qualità della stampa, per la qualità grafica, dell'impaginato, è una rivista che non si può, appunto, dopo ce lo diranno anche loro come la definiscono meglio di me, non si può definire una rivista di ciclismo, non è una rivista di biciclette, ecco, è una rivista forse dei ciclismi e dei diversi mondi che girano attorno alla bicicletta, al ciclismo, infatti, come dire, anche se è bimestrale, abbiamo detto, è simpatico il fatto che io lo noto, leggendo, scogliandolo, insomma, anche con mio figlio a casa, risente delle stagioni, come dire, è un po' come la frutta, nel senso che, per esempio, questo numero che ho in mano io, è il numero appena uscito e risente della stagione delle classiche, delle classiche al ciclismo, quindi trovate molti servizi dedicate alle classiche al ciclismo, più quella autunnale, invernale, risentiva del mondo grave, l'autunnale, allora aveva più un tono, invernale, appunto, quella invernale è piena di fango, risente proprio delle stagioni, in questo senso anche risente dei ciclismi e delle stagionalità del nostro strano mondo, quindi è veramente un oggetto, un oggetto bello anche da tenere, adesso vi parleranno meglio di che cos'è tutto il gruppo al vento, che non fa solo rivista, che sta avviando anche la pubblicazione di numerosi libri tematici di cui vi parleranno, ultima cosa, come vi dicevo, c'è una moria, purtroppo, non lo sappiamo bene, di edicole, quindi non è facile, non è facilissima da trovare, ci si può abbonare, dopo ci diranno loro quanti abbonati già ci sono, ma io che sono appunto, forse perché sono un figlio del Novecento, vado ancora in cerca delle edicole, beh, qui a Mestre, se ha qualcuno interessato a Mestre e dintorni, posso assicurarvi che si trova, almeno si trova, nella edicola della stazione di Mestre, quindi se proprio avete voglia di venire con me in edicola, sapete che ci si può trovare lì quando esce al vento, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie Stefano, la potete trovare all'edicola della stazione, ma la potete trovare anche fortunatamente in questi giorni qui, oggi almeno, al banchetto qui fuori. Al vento esiste da tre anni, siamo arrivati al numero 20, al vento 20, è l'ultimo numero uscito non più di 15 giorni fa, è un progetto che nasce da una costola di una casa editrice, di un'attività editoriale quarantennale di argomento montagna, escursionismo, alpinismo, ha sede a Piverone, che è un piccolo paese della provincia torinese, però ha le porte di Ivrea, quindi diciamo che nasce, ha le sue radici nella provincia, che poi continua ad essere forse il territorio di elezione dei vari ciclismi italiani e non. Tre anni fa si è pensato che l'argomento ciclismi, che è bello parlarne al plurale, avesse delle affinità con il mondo, appunto, dell'outdoor in generale, della montagna in particolare, perché era quel settore che stava aprendo la propria nicchia di interesse, a un pubblico sempre più trasversale, curioso e al limite del generalismo, ma nel senso, come dire, meno negativo. E quindi l'idea di poter provare a trovare un linguaggio non specialistico, non settario dal punto di vista del ciclismo esclusivamente agonistico, e nello stesso tempo non una rivista di viaggi o di belle foto e basta, e soltanto di quello, si è pensato di ibridare questo mix di contenuti e di stili. Ne è nato al vento, io sono Gino Cervi, sono un collaboratore, ma mi occupo soprattutto di una cosa nuova, che è nata non più di sei mesi fa, che è una collana editoriale di libri, che si chiamerà Pagina al vento, e qui con me c'è Paolo Ciaberta, che invece che fin dalla fondazione è uno dei contributi fotografici più importanti e più assidui. E oggi proveremo a raccontarvi che cosa significa in questi anni narrare, rappresentare il ciclismo e i ciclismi attraverso un media che, come diceva Stefano, sembra appunto un media novecentesco, di carta stampata, di inchiostro, di colla, di confezione, di colori, e quello che ci sta intorno. Ovviamente la rivista è un po' la punta dell'iceberg, intorno a questo c'è un'attività che è fatta però necessariamente anche di relazioni social, di connessioni anche nell'immateriale, e da sei mesi a questa parte, questo tentativo ancora più Don Quixottesco, di pensare che i lettori di una rivista bimestrale possano appassionarsi o riappassionarsi o scoprire che anche i libri sono belli da leggere, da possedere, da collezionare. Il tema di oggi è quello di, abbiamo provato con il contributo dei ricchi e significativi il portfolio di Paolo, a raccontare alcuni segmenti di quello che noi andiamo a rappresentare. Abbiamo scelto di raggrupparli in grandi contenitori, che si chiamano appunto con delle etichette, non so chi è che comanda, devo comandarlo io? No, scusa, grazie. Grazie. Sì, sì, sì. Tu Paolo, avevi visto come... Ok, perfetto, no, cominciamo. Abbiamo, parleremo di strade, di paesaggi, di corse, i contorni, cioè gli spettatori, sì, esatto, di eroi, nel senso dei protagonisti, e poi della memoria. Quindi attraverseremo un po' questi segmenti di narrazione del ciclismo contemporaneo. Se vedrete la rivista, capirete che l'aspetto visivo, visuale e fotografico è preponderante, non è esclusivo, perché curiamo molto anche l'aspetto della narrazione testuale, quindi del racconto, ma l'impatto prettamente fotografico e dell'immagine è quello che cattura e che dovrebbe appunto, che anzi, da quello che ci sembra, è quello che rimane più attaccato all'immaginazione e al seguito dei nostri lettori. strada, ecco, quindi noi faremo passare un po' di esempi, esempi di fotografie, si possono declinare, come raccontare il ciclismo significa in realtà seguire delle tracce, seguire delle strade. Paolo si occupa di foto sportiva, ma non esclusivamente, anzi, diciamo che la tua vocazione principale è la foto di territorio, di paesaggio, lavori appunto per molti enti locali, per committenze anche legate alla recettività e quindi va in giro per il mondo per cogliere l'essenza di un luogo, quello che si diceva essere lo spirito, il genius loci. E qual è il modo per, intorno alla corsa, di poter intercettare quello che a te sembra essere il senso di quello che stai facendo? Ad esempio qui stiamo parlando appunto di strade, il ciclismo per eccellenza è lo sport che ha la strada come suo territorio di azione, a differenza di tutti gli altri sport che hanno invece dei luoghi circoscritti in cui bisogna entrare, bisogna pagare, bisogna pagare un biglietto, bisogna... Invece il ciclismo continua ad avere questa impareggiabile caratteristica di arrivare sotto casa. E quindi come si lavora per strada? Eh, per strada si lavora di fretta, perché i ciclisti vanno velocissimi, però in realtà, come dicevi giustamente tu, la cosa bella del ciclismo rispetto a tutti gli altri sport è che quando fotografi il ciclismo fotografi il mondo in qualche modo, e ti ritrovi nelle città, ti ritrovi nelle campagne, ti ritrovi al mare, ti ritrovi in cima alle montagne, ti ritrovi sotto il cielo ed è una cosa che nessun altro sport, soprattutto dal punto di vista del fotografo, ti permette di fare. Il ciclismo ti viene a bussare proprio alla porta, ti passa sotto la finestra, ed è questo che ti offre una quantità di spunti, di paesaggi infiniti. Non è un caso che i più grandi fotografi... Mi è capitato di stare in Val di Sole a fotografare per al vento una mostra sul ciclismo fotografato dai fotografi della Magnum, e non ci sono in realtà altri sport nei quali i fotografi del livello di Robert Capo o di Cartier-Bresson non si sono confrontati con il calcio, con le maratone, con lo sci. Il ciclismo evidentemente ha proprio in sé questo DNA, questa caratteristica epica, questa caratteristica che lo rende unico assolutamente. Sì, ci sono due elementi di epicità, quello dell'ampiezza, dello sguardo che ti fa aprire il tuo occhio, il tuo interesse al paesaggio, alla strada, e l'altro esempio dell'epica che è consustanziale a questo genere di comunicazione, e esce anche la parola fatale che è quella letteratura, quindi di genere letterario, è la fatica, il dolore, la sofferenza. Quindi non a caso gli altri grandi fotografi del Novecento, oltre al ciclismo, si sono cimentati con la box, altro sport ormai in via total di totale estinzione, perché era come dire il close up, era il dettaglio, il focus sullo sforzo, sullo sforzo, sul dolore, sulla sofferenza, sulla capacità di resistere o di resistere ai colpi, al dolore, e lo stesso vale un po' per il ciclismo, e per il ciclismo agonistico in questo caso. Al vento si occupa, come dicevamo prima, di ciclismi, chiaramente uno dei focus principali sono le corse, il mondo delle corse, e quindi il confronto, l'agonismo, la sfida, il duello, il contesto interno alla corsa, infatti l'altra sezione, questo qua, ogni tanto se vuoi posteremo anche, questi qua sono foto non ovviamente di agonismo, ma questi sono invece di paesaggio, più che di strada, qua siamo come potete capire in Marocco, questi invece sono strade bianche, mi sembra. Strade bianche questa, sì. Ecco, magari se ci fermiamo un attimo a parlare di strade bianche, potrebbe essere il caso, perché strade bianche nel giro di dieci anni è diventata la nuova classica del ciclismo contemporaneo? Beh, sicuramente per la sua, spettacolarità visuale, nel senso che offre, in base al clima che trovi, cambia completamente la gara, ricorda moltissimo, non è un caso che la paragonano spesso alle gare del nord, quindi se piove, i ciclisti sono marroni, se fa secco e c'è il sole, tutto bianco per la polvere, è il periodo della primavera, per cui se capita il sole, è uno spettacolo, poi figuriamoci la Toscana, ovviamente offre, appunto, sempre dal punto di vista del fotografo, una quantità di spunti notevoli. E anche in questo caso è l'affermazione di quanto il ciclismo abbia bisogno di un territorio che ne esprima l'identità. per quanto ritornando a fare paragoni, è chiaro che ci sono luoghi emblematici e mitici per uno sport come il calcio che sono gli stadi, però i territori sono quelli che comunicano e sono diventati, per usare una parola che non mi piace molto, ma un brand di una corsa, così come le fiandre, le fiandre, il pavè e allo stesso modo le strade bianche, la polvere, le terre ocra delle crete di Asciano e gli arrivi di terra, il color terra di Siena intorno a Siena diventano la quota indistinguibile e imprescindibile di un evento. Passando dal paesaggio a dentro la corsa, devo cambiare... Forse sì, non lo so se... Scusate, perché se saltiamo in un'altra cartella c'è una cartella che si chiama Corsa e quindi entriamo dentro nel mondo delle corse. Ok, scusami. Corsa di A? Corsa, sì, sì. Ecco, e invece come l'esperienza io posso raccontarla dal punto di vista della narrazione sportiva, da tre anni, quest'anno non lo farò, ma da tre anni ho seguito il Giro d'Italia per conto di RCS per un podcast che si fa tuttora che si chiama Giro Glifici insieme agli amici di Bidon. In realtà seguire il Giro d'Italia, ma questo lo diceva anche già Gianni Mura, da un po' di anni a questa parte non si ha più la possibilità di seguire davvero una corsa perché i giornalisti saltano di tappa in tappa e guardano di fatto gli arrivi e fondamentalmente guardano la corsa alla televisione che continua ad essere il modo, come dire, più efficace per poter capire quello che succede perché come spesso capita quando stai dentro una cosa non hai la percezione di quello che avviene realmente intorno a te come Fabrizio Del Dongo nella battaglia di Waterloo non capiva bene cosa stava succedendo e l'importanza epocale di quell'avvenimento. quindi cosa succede noi l'anno scorso avevamo questa tecnica anticipavamo la corsa in realtà l'anticipavamo per vedere non tanto la corsa in sé ma quello che aspettava la corsa quindi gli spettatori la strada per uno che invece come un fotografo deve invece cogliere gli elementi come dire peculiari della corsa qual è la difficoltà di cogliere l'attimo dell'avvenimento sportivo ci va quello che dico sempre ci va pazienza e esperienza fondamentalmente la pazienza è già quella che raccontava Paolo Conte quando stava seduto sul paracaro ad aspettarli e poi quella manciata di secondi nei quali avviene tutto e devi essere bravo a coglierli perché poi per andare a riprenderli non sempre a volte non è possibile e altre volte è molto complicato quindi in effetti l'esperienza aiuta l'esperienza del cogliere la situazione perché tutto veramente avviene in una manciata e non è un caso che ti mettiamo sempre in salita quando ci sono perché ovviamente sono più lenti ti danno il tempo di cercare le inquadrature e qui ci spostiamo a parlare di un'altra dimensione che è quella di quelli che aspettano appunto del contorno del contorno corsa e credo che nessun altro sport abbia questa sproporzione esagerata tra la costruzione dell'attesa quasi leopardiana e l'accadimento in sé tu dici appunto ci si mette in salita perché tutto sommato in salita arrivano vanno più piano e arrivano tutti snocciolati quindi come dire il godimento e la fruizione diciamo del cosiddetto spettacolo è diluita a un tempo più lungo però questo non succede in tutti gli altri casi in cui se voi pensate al tempo che uno ci mette per aspettare quelli che passano su uno stradone dritto un drittone nel paese è tutta attesa e poi tutto quanto si riduce in un attimo è quasi questa sproporzione a qualcosa quasi di rituale di liturgico è come un avvenimento sacro che poi succede in un momento ma quello che conta è la preparazione lo stesso vale per anche perché quando poi trovi il posto e stai lì magari mezz'ora 40 minuti da aspettare nella testa ti viene in mente ma forse potevo mettermi là forse potevo mettermi 50 metri dopo perché per ogni scatto che fai sai che comunque ne perdi almeno altri altrettanti quindi ecco invece entrando nella corsa questo qui è Giuliano Lafilippe sì qua le strade bianche e qua le strade bianche e quanto adesso noi siamo abituati cioè ci siamo abituati ci siamo immaginati per tanti anni che i grandi campioni potessero essere raccontati da vicino ci sono pezzi strepitosi di interviste a E.D. Merckx che si sta facendo il bagno o a Coppi che viene massaggiato tutto questo oggi è totalmente impossibile farlo è impossibile farlo per chi scrive e a maggior ragione forse anche per chi fotografa perché comunque la comunicazione visuale è ancora più invadente è ancora più indiscreta quindi un fotografo deve essere pronto ad essere un vero e proprio bracconiere di istanti e come ti capita quello scatto dalla Philippe bisogna come dire puntare mirare e sparare al momento giusto sì per arrivare a far quello ci va secondo me quello che dicevo prima l'esperienza che io ho accumulato nei primissimi anni quando mi è capitato di fare eventi ma soprattutto i matrimoni dove devi essere perché anche lì le cose capitano one shot e non puoi sbagliarle le espressioni le situazioni gli spazi spesso sono stretti sei obbligato a muoverti con dei tempi contingentati e mi hanno dato degli skill che poi mi sono ritrovato in questi casi per cui quando lo faccio non so dire come faccio è una cosa quasi automatica ormai mi viene naturale ogni tanto mi viene da dire anche che sono stato fortunato così come tante volte invece magari scatti la foto viene sfocata o comunque la perdi quindi c'è la doppia faccia della medaglia proviamo a passare invece a un altro a un altro qua sto soltando di qua perdonami saltiamo in un'altra cover un'altra cartella scusami passiamo a magari passiamo a contorno esatto contorno che è quello che dicevamo prima il ciclismo sì 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 ah ok perfetto sì sì ok grazie grazie ecco il contorno è quello che dicevamo appunto è tutto quello che sta la cornice dell'evento e quindi quelli che aspettano quelli che quelli che rimangono anche perché soprattutto nelle grandi corse a tappe l'effetto è di un gigantesco villaggio ambulante un circo barnum che va attraversa la città attraversa le città e lascia poi delle delle tracce il contorno però sono anche i personaggi che stanno intorno al mondo della bicicletta questo è Ernesto Colnago che ha compiuto 90 anni 40 giorni fa che è un mito vivente assolutamente del ciclismo mondiale e questo è Rosso Santini della Santini abbigliamento sportivo questi sono i personaggi che hanno sì e anche loro grandi maestri di provincia Colnago Brianza Santini Bergamasco questi sono i cannelli dei telai qua dove stavi dove eri? questa qui è in Veneto è un artigiano che costruisce il trofeo per il Giro d'Italia è vero non è un telaio è il trofeo senza fine è il trofeo senza fine sì sì qui lo costruiscono proprio a suon di martellate e cannelli sì sì artigianato puro e ogni anno quindi c'è un incisore che scrive il nome no? esatto due anni fa sul momento sul momento tra l'altro sul momento sì sì due anni fa l'incisore che ha scritto il nome di Tao Geogen Hart credo che abbia susato freddo per rischiare di sbagliare a scrivere lui è l'artigiano che l'ha fatto il bello che il ciclismo ti porta a fotografare veramente un mondo intorno che è vastissimo e non è solo non è solo la strada e non è solo la competizione ma ci sono storie di persone perché dietro adesso è vero molti brand italiani sono sempre meno italiani però le storie ci sono sempre e magari i patroni sono cambiati però all'interno chi lavora chi ci mette le mani hanno sempre delle storie da raccontare che hanno una loro originalità umana e artigiana assolutamente poi l'Italia in questo è maestro qua eravamo a Messina qua siamo a Messina al passaggio del giro quest'anno a Messina ci ritornano tra pochi giorni e questa è appunto e qua invece siamo qua siamo in Francia e c'è una scritta a Viva Bugno ti ricordi che strada che strada fosse? questo qua potrebbe essere Olga Libier perché eravamo stati per fare tutta una serie di salite nella parte del Savoia vicino a quelle tra l'Italia e Francia adesso non mi ricordo esattamente questa dove fosse e quindi ecco ecco poi invece ci sono altri altri casi più pittoreschi diciamo così beh in questo il giro il tour offrono delle situazioni veramente a volte anche al limite perché ci sono vere e proprie feste ci sono dj sette sulle strade ci sono c'è tanta tanta passione quello che si vede è veramente tanta passione ecco il ciclismo è un altro degli aspetti peculiari del ciclismo che ci piace sottolineare e che è materia infinita di narrazione quello che è uno sport che a differenza di altri continua ad avere a conservare una memoria di lunga di lunga gittata anzi che si alimenta quasi come le grandi narrazioni mitiche del proprio passato è difficile pensare che ad esempio i calciatori contemporanei possano sapere qualcosa di ma non dico di Peppino Meazza ma neanche di Gigi Riva o di Gianni Rivera è già tanto se arrivano all'altro ieri invece per qualche motivo che è questione proprio di tradizione di passaggio di memoria di trasmissione di passioni i ciclisti contemporanei forse perché sanno sanno da dove arrivano e sanno quali sono i luoghi mitici perché appunto come dicevamo prima il ciclismo è fatto di bandierine di santuari quindi che sono volta per volta il Ghisallo il Poggio lo Stelvio l'arrivo a Sanremo il Vigorelli che abbiamo visto prima quindi c'è questa consapevolezza diversa di appartenere a una comunità fatta di di storia lunga e lo stesso appunto è quello che poi si percepisce aspettando i corridori qua sei a un qui siamo a quella delle finestre all'arrivo poco prima dello scollinamento e questi sono quelli che però vanno più piano questo è un lotto probabilmente fa parte del gruppetto degli ultimi e in genere sono anche quelli più folcloristici perché si fermano a scherzare a volte accettano anche il bicchiere di birra da parte dei tifosi e questo sta accettando invece la fatidica foglio di carta da mettere sotto sotto la maglietta che è ancora il rimedio ancora più pratico qua sei alla madre di dio qua a Torino quindi è casa tua tu sei torinese ed è il giro dell'anno scorso no qua è quando ha vinto Nibali l'ultimo l'ultimo giro sì c'era parecchio invece volevo andare appunto a parlare a vedere la parte sulla memoria che è qui ecco qui invece a te capita di andare in posti dove appunto risiede la memoria del ciclismo perché si va ad intervistare vecchi campioni oppure collezionisti e quindi capita di avere poi per le mani questi reperti questi memorabili reperti storici questo qua ero da Gios piemontese produttore di bici storiche il mitico Gios De Vlemic Tolmino Gios eh sì che ha messo esatto questa è la Milano Modena penso primi del novecento qua c'è scritto Olmo secondo o forse Olmo Bini sì credo potrebbe essere Gios terzo primo Bini secondo Olmo e terzo Gios ah ok è vero quindi dovrebbe essere anni fine anni trenta se Olmo sì sì esatto e questo è il suo album dei ricordi entrare in queste cose è sempre un'emozione per me incredibile perché si parla proprio dell'era d'oro del del ciclismo ecco quindi quindi al vento intercetta la contemporaneità intercetta il la memoria il repertorio il passato attraverso appunto queste testimonianze questi approfondimenti sulla storia del ciclismo questa dimostra che il gravel già esisteva prima di tutto prima della strada prima del mountain bike il gravel già c'era ah questo è Piero Carlesi uno dei questo è Piero Carlesi che però è affiancato da un certo Ernesto Colnago e da Magni dietro per cui è un trittico direi molto particolare fatta a casa sua a casa di Carlesi e che dire se un foto penso è la filco e quindi credo sia 1962 63 Piero Carlesi se leggete l'ultimo anzi no forse il penultimo numero di al vento c'è un servizio di Marco Pastonesi che racconta anzi no forse l'ultimo proprio l'ultimo sui tre coppini i coppini perché il mito della della persistenza di Fausto Coppi dopo la sua scomparsa è stato quello di cercare di individuare la reincarnazione di Fausto Coppi quindi ciclicamente a partire dagli inizi degli anni 60 i giornalisi dicevano questo è il nuovo Coppi e tutti quanti inevitabilmente però dovevano immediatamente applicare il diminutivo e quindi erano tutti coppini il primo coppino è stato Italo Ziglioli torinese è iniziato grazie a Gios un altro contemporaneo circa Ziglioli era Piero Carlesi che invece era toscano e poi negli anni 80 Franco Chioccioli che peraltro però a differenza di Ziglioli e Carlesi vinse anche un giro d'Italia e quindi era meno coppino degli altri ecco questo appunto è proprio Piero Carlesi con le foto nella sua stanza dei ricordi il gioco di Alvento è quello di raccontare un ciclismo contemporaneo quindi esplicitamente incentrato su che cos'è il ciclismo agonistico e non adesso quindi gli attraversamenti cioè la fotografia degli avvenimenti agonistici gli attraversamenti di territorio attraverso le esperienze di viaggio perché gran parte della rivista è dedicata a chi racconta le proprie esperienze di bikepacking o di gran fondo o anche di ciclismo di lunga durata di lunga percorrenza e di intercettare poi però anche il senso di una comunità che è quello che appunto lega gli appassionati di un ciclismo più sbilanciato diciamo sulle grandi imprese sull'agonismo sulla corsa e quelli che invece tutto sommato preferiscono praticare piuttosto che farsi affascinare dal ciclismo osservato e quindi tenere insieme questi linguaggi e queste istanze non è banale ci stiamo provando e forse ci stiamo riuscendo perché l'intorno il terreno di cultura è stato preparato in questi anni in cui le divisioni in cui appunto il ciclo movimentista non si parlava con il ciclamatore o l'appassionato di vintage detestava il ciclo fighetto urbano diciamo che alla luce del comune denominatore che sono queste benedette due ruote e gli otto tubi di un telaio una sella e poco altro abbiamo fortunatamente stiamo capendo che come dire il movimento è condiviso ed è sciocco pensare che ci possano essere tante parrocchie all'interno di questa grande e popolare passione io credo di essere arrivato vero? ok allora non avete parlato molto c'è una collana che è iniziato esattamente sei mesi fa e che troverete di sopra i primi due titoli uno è la biografia di Thomas De Gendt un ciclista prettamente al vento come filosofia è uno che appunto sta sempre preferisce star sempre fuori dal gruppo un po' come Jack Frusciante quindi non è un grande campione ma è una bella biografia che racconta il proprio mestiere dal di dentro c'è una biografia fotografica invece dell'anno iridato di Giuliano Alaphilippe che devo dire ahimè non gli è portato molto bene quest'anno perché da quando è uscito il libro Alaphilippe continua a cadere e spero che non ce l'abbia con noi usciranno a brevissimo al Salone di Torino anzi chi di voi vorrà passare una giornata al Salone di Libro di Torino saremmo felici di ospitarvi al nostro stand dove racconteremo appunto l'avventura di Pagini al Vento vi daremo il nuovo catalogo e ci saranno i primi quattro libri quindi oltre a questi due la traduzione della biografia straordinaria di autobiografia straordinaria di Laurent Fignon che non è mai stata tradotta in Italia ed è una a mio avviso credo che abbia la stessa potenza ed efficacia di Open di Agassi come narrativa sportiva a prescindere dal ciclismo e qui con noi c'è anche Marco Balestracci che si nasconde e si sta sprofondando nella poltrona che ha scritto un bellissimo romanzo su Major Taylor Marshall Major Taylor che è il primo campione afroamericano su pista una storia legata alla nascita della musica nera della black music del blues del jazz tra la fine degli 800 e l'inizio del 900 ma soprattutto ancora con un grande valore simbolico di rappresentazione di una società ancora legata e schiacciata dalla segregazione razziale quindi i temi come sempre la bicicletta li trova li va a cercare e non sono soltanto i temi agonistici e di chi arriva primo o di chi arriva ultimo grazie grazie a voi grazie grazie allora grazie